Speriamo che sia partito Ok 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 ci siamo ci siamo ci siamo Eh vabbè per una casa tanto non ci trovo niente qui Punti per Frank lo porto subito a un quattro Posso portarlo a un quattro? Si ok E ok Ci siamo tanto se non ci sarà ancora nessuno in live O come io ci do neanche un minuto quindi ancora non ci sarà nessuno Eh si Ok Ok Mi ha aiutato un po' di soda showdown Tanto non ci sarà nessuno Ci vediamo uno spettatore Ci sarà mai? Avere Ehm Ok Sperando di non laggare Come sempre noi Siamo sempre nella parte del Siamo sempre nella parte del karma In modo che non mi faccia Ecco Ehm Ok Mi ha dato una scattata Mi ha dato una scattata Normalissimo Guarda Non ho mai laggato così eh Mi ha No Mi ha fatto Mi ha fatto perdere la Ulti Cacchio Ok Ehm Io mi risolvo questo problema Non ho idea di come risolverlo Che già è al minimo Che Già praticamente è al minimo Il live Per colpa del mio wifi Quindi eh Non ho idea di come risolverlo Ok non ci dovrebbe essere nessuno Qui c'è un Eugenio 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 E vabbè lagg Eugenio Eugenio No mi shot sto Eugenio Eugenio Vabbè ma me l'ho scena Cornel Ucciso Tutto io Eugenio 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 Lo eAD No come ho fatto a miscarlo No me la al000 Lo manchiava pochissimo Per killarla Vabbè Adesso l'attimo sembra un po' tipo stanco, tipo sfinito ma in realtà non è così vedo un attimo una cosa prima eh, perché se Wifi non mi sta facendo bene un secondo ah, è sbagliato così eh, senti, vedete, è fermo un secondo, tanto devo solo fare una cosa ok, sì ok, sì, ci sono eh, sì il Wifi non sta facendo molto bene quindi non ho idea di come fare siamo qui nel Road to 2500 trofei ma ci metterò una vita sono ancora a 1370 ancora più di 1000 trofei quindi non lo so guarda, sono ancora a parlare perché tanto ancora manca ancora la gente deve entrare, quindi ok, vediamoci queste due bellissime gemmine diciamo così almeno non capisco meglio come parlo c'è un po' di confie quindi non riuscivo a capire bene come parlavo quindi ecco eccolo lag perché c'è anche il mio cugino che sta giocando in questo momento non mi impizzare la torretta se non ti uccido doi favore sta Penny eh, l'avevo distrutto rimanendo a due di vite li rimaniva vediamo eh, se abbiamo intrappolato i due Penny ne abbiamo intrappolato lo studio se mi piace la torretta mmm sorrisate di Penny quanto la odio fa ancora più fa ancora più odiare di quella lì di cosa di Jesse adesso la faccio finire dalla novel non ho voglia di aspettare che la finisca la puzza c'è qua giù un Brock una Penny questa Penny mi sta sulle scatole da molto che la vedo gironzolare no, sto Brock 40 di vita sta Penny vai torretta vai torretta ucciso no niente 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 felato felato sono morto eh, sono morto sono morto non potevo fare niente no, non potevo fare niente ho usato anche la ulti ah, ecco cosa mancava ecco, ecco perché mi sentivo sentivo che mancava qualcosa ok, ok mancava il volume ok, mancava il volume si, adesso si sente anche il volume quindi io continuo solo il showdown tanto cioè finché non non entra qualcuno a giocare con me non posso fare altro vieni qua bene grazie Brock rompimi la cassa per me Brock ti ho detto l'ultimo chiesto di rompermi la cassa per me bravo c'è la ulti ha pegata male guarda guarda ulti lanciata morto perfetto c'è morto lui una tabla una tablata questa qua una tablata ma ok non ci dovrebbe essere nessuno quindi poi c'è un pocio che anche non voglio uccidere quel pocio perché pocio è il mio personaggio preferito quindi vieni qua pocio vieni qua pocio ma cosa fa perché pocio mi ha lasciato un po' cura fresco cuoce e la furtata bombardino qualche di meno è molto più un problema perché tanto io sento ci fare molto da lontano ok il bombardino è spettato lì è che non è un buon momento certo Frank ha il 9 o 9 gemme scusami non è al 9 come vado a fare questa stecca la checca quanto rimane sul bombardino questo Frank adesso metterà bombardino quello bombardino metterà Frank io aspetto qui io quando la puzza non mi arriva perché spero di arrivare a seconda sto tramando i troppai quindi anche quindi campolare ci sta ok è misciotto questo Frank io faccio fare un bombardino e niente 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 a me niente non potevo fare molto non è un gemme ieri di ogni me c'era un bombardino che che lì rompe le scatole proprio tanto le rompe e fra un'ora ci dovrebbe essere il nuovo evento quindi appena finisco appena finisce questa ora di qua di qui c'è il nuovo evento quindi potrò prendere un altro gemme un altro di questo qua e aprirlo vedendo di trovare questo cacchio di un genio che tanto ormai da moca ci sto provando a catturare a prendere un genio la stecca la checca e di qua stecca la checca no giusto qua perfetto c'è morto anche quest'altro Frank ho quasi ricaricato di nuovo la ultima segresti la checca ormai ti metti la checca io e niente niente non ce la faccio oh no fortunatamente ho usato la ulti se non ho usato la ulti sono morto ok perché c'è un'anita che si chiama Sans ok sono state gemmine ok non ha ulti carica in questo momento vediamo aspettiamo che lei si muova morta c'è un down che diceva rimasto solo in 2 credo che c'è un'anita perché tanto ci sono appena in un'anita se la nita c'è l'orso quanto è fastidioso non so io tanto adesso la cerco quindi ora c'è un'anita forse di questa anita non conosci la vera forza di Frank perché Sans Sans non è vero forte io sono stentroppando della puzza aspetto a che niente si dovrà muovere per la puzza tanto così vedrà troppa poi c'è dalla puzza morta perfetto di giro prima vittoria forse aspetto devo rifare una cosa ok vediamo l'altro così qualcuno non ancora no un attimo che devo fare la cosa ok Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Dinamiche. Dinamiche io me ne vado, per dire. Eh, sta fam, sta fam, sta fam, sta fam. Quattro belle gemine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E... E... che devo fare? ok per uno spettatore, ciao spettatore scriviti nei commenti se sei iscritto, iscriviti al canale comunque facciamo così ok, perfetto facciamo un'altra partita lo sono solo showdown ancora con Frank continuo a giocare con Frank perchè è troppo forte è troppo forte Frank lag perchè sono troppo aggiunto e non l'ho capito ok, io lo sapevo dai un hit sei un hit nooo sono uccisa vicenda, ci siamo è un attimo concetto è un attimo concetto è un attimo, è un attimo, è un attimo, è un attimo 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 Beryl, 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 vieni qua Ma stanno facendo team sti due Beryl E la madonna quanti Beryl ci sono Ma che cacchio Ma che cacchio Ma che cacchio Ma c'hanno 502 Beryl Ma che cacchio Ci saranno 3 Beryl Io e questo Poccio Si è curato sto Poccio No ma ci sono morto ma c'era un giro che sta facendo team Avevo visto 3 Beryl Avevo visto ma che anche io l'ho morto Ok Stai normale tutti quando così c'è Quando mai non ci sono 3 Beryl No ma ho anche un trofeo per i 1400 trofei Che non mi dico se posso entrare Ma in effetti è un no Vedo che c'è un no Ma comunque c'è un no che sta facendo team Machinami Machinami Che sono Ciao Beryl Bicetto Vai Prima cassa Presa Ma se spada è il punto più sfigata in cui non ce ne manca una cassa Bicetto Ma guarda che c'è No ma come hai fatto uccidermi Ma avevo ancora tanti pocato Toglio Tara Ma Tara toglie troppo Tara Ma quanto togli Mi hai sciuttato Ma che cacchio Mi hai sciuttato Tara Ma non è possibile Ok Va bene Vediamo un attimo Stoppaccio Pony vieni qua Spoccurare Pizza Morto DG Comunque si Frank è morto Frank è morto E' un po' sdiedi No però Eh vabbè E' un po' un problemino con Frank Perché dopo sei un po' morto L'ultima cosa La cosa utile è di Frank Praticamente Ci sono tanti Frank E poi c'è Ah ecco vale Bally mi potrebbe Shotare Se mi usa la ult Il boss mi shotta Bally Perché nemmeno quel frank laggiù ho visto ok c'è anche una stacca alla checca ok due frank l'hanno circondato io sono più alto di quell'altro frank quindi per il vento riusciva ad ammazzarlo il nome ha ucciso 700 di vita gli rimaneva 700 di vita gli rimaneva ok ok va bene va bene e un attimo non ci sono e ok ci sono 10 volte partite io continuo a fare i laggiù se non viene ah c'è qualcuno vediamo vediamo oggi ho continuato devo farmare i trofei è lag è la lag mi ha allargato e non poco sta bene ci potrà spostare finalmente no l'ho misciato sto barrel eh sto dynamite adesso li ho appena preso ho appena feitato e c'è sto dynamite qui c'è una stacca alla vecchia sto laggando anche non poco come è possibile che sono morti 0-2 ok sto dynamite quanto lo odio e giù c'è dynamite qua c'è stecca alla vecchia c'è è una cosa difficile risulta che dynamite si capisce oh il genio il genio è lag guarda che quale mi ha laggato questo primo momento devo lanciare la ulti no ma che mi sono chiesto no lui si è bugato per lo secondo non ci capivo più niente perchè mi sta laggando un po' ogni tanto che l'altra io parlo strano perchè è zipio tirando altro niente ok sono a 1413 trofei si va bene ci sta dai vedo di invitare qualcuno un attimo Anzio sta giocando da solo dark vediamo se voglio accettare il mio invito perchè se accetta gioco un po' con dark così almeno vediamo ma non credo perchè sennò l'aveva già accettato se voleva giocare comunque si adesso non continuo con supervivenza c'è uno jam grab perchè adesso vai smacchiamoci un attimo e in jam grab usiamo io provo a nita che nita non l'ho mai usata praticamente c'è un graio 5 quindi voglio vedere un attimo nita pipe e si usano di scigatelle vediamo ma qui un italia è un pochino la gamba, quello lì sta un po' la gamba se io uso la ulti, quanto lo odio credo vediamo, eh, ne hanno messo tutti scopo pagina e... bene il cacchio ok c'è molto, spogliamo l'orsetto l'orsetto pratico ok grande l'orsetto l'orsetto ha fatto abbastanza delirio vediamo un attimo eh, non possiamo, non dobbiamo fare il final di tante gemme vediamo, tenendo lì il puzzle ok, quindi le mie non fanno la differenza ah, c'è anche lei c'è tutto il pipe, c'è l'ha perfetto adesso noi scioltiamo questo qui è perfetto, win, easy, easy, easy win diciamo l'orsetto ok, easy, easy win, non è niente di che io sono migliore, non è niente di che segno io adesso c'è qualcosa che potrei comprare di utile eh, magari questi certi sono da punti di colp magari poterli comprare ma 120 soldi non ce li avrò mai eh, ok, adesso farò un attimo una pausa perché devo, eh, farò una pausa eh, tanto sì, adesso facciamo un attimo una pausa quindi ci rivediamo più tardi eh, ok, 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 ok. Grazie 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 Ok, dovevo solo fare un secondo una cosa, quindi ahhh sono un po' stanco perché parlare tutto il tempo mi stanca abbastanza ok, vediamo, vediamo, vediamo vai, abbiamo un team decente decente no, 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 non è decente per niente eh, però abbiamo i team uguali, quindi GG adorsi solfador odorsi solfador odorsi solfador ti sono morto odorsi solfador siiii ti stiamo chiusi a vicenda che cosa vuoi vai vai lancia l'orso, lancia l'orso vai orso io odorsi da d' abbastanza noia perché dopo quando quando l'orso di usare tutti i colpi che vuole sempre usare e quindi da abbastanza noia si si ecco vedi odors de solfador odors de solfador ok lanciamo l'orsetto amichetto orsetto amichetto mio amico del cuore l'orsetto amichetto il mio amico che spacca le facce e il boccio grandi grandi prendete quelle gemme sto broccio è incantato no 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 gem grab gem grab si scarraffa gemme devi arraffarle le gemme orsetto orsetto del cuore grande orsetto del cuore vai si vittoria 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 ok ok io continuo 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 a fare partite continuo 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 ancora fare partite si si oh finalmente il 1425 abbiamo raggiunto abbiamo raggiunto il 1425 eh si vai si 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 che è difficile anche se colto riuscirebbe a fare qualcosa lo stesso colto e niente ci muoio subito ci muoio ci sono morto c'ho 4 ore di vita che bello no ok no 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 stop poccio vieni qua poccio poccio lanciami la cura per favore mi serve la cura no no poccio poccio perché non hai lanciato la cura a me se il viva più a me la cura luce ha lanciato l'orso male però vabbè dai Orsetto puccioso, orsetto del cuore puccioso, mi ha sciottato sto poccio, sto poccio mi ha sciottato, sto poccio mi ha sciottato, di pieno vitamina, e questo poccio mi ha sciottato sì, mi ha sciottato, avvolto nel caffè. E' vostro l'orso, è vostro l'orso, no ma voi io penso che avevate richiesto un pochino d'orso, gli orsi salvador, io poccio, io poccio, io poccio, io poccio, no lag, che laggata che ha tirato. Voglio, 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 e niente, niente, questa qua la perdiamo, non importa, dai, ho già fatto tante partite. Va bene, va bene, ci sta, ci sta. Che ore sono? Sono le due e mezza, quindi molti staranno già dormendo, quindi ecco, perché non c'è nessuno. Vabbè, io continuo a fare tipo la bounty facciamo, dai, con un jesse i bounty la faccio di solito. Ok, ok, vediamo Tara, sì, c'è gente forte contro, ma abbiamo ancora gente forte. Statara. No, Piper, no, ma Piper sciotta, Piper, non è possibile, Piper, quanto sciotti. Piper sciotta, troppo. Ma Piper toglie 1398, com'è possibile, com'è possibile? Dai, non riesco a coprire nessuno. No, c'è morto. Comunque Godure, qua è bellissimo, qua la torretta, sta veramente bene la torretta. No, me l'ha distrutta. Mi avete usato, distruggere la torretta, no, vadana? Gigi. Piper toglie troppo, ma vuoi far vedere così tanto, Piper? Ma mi sciotta, non è possibile, non ho tempo neanche di arrivare, che mi già mi ha ucciso. Guarda, Piper, guarda, Piper, guarda, Piper. Mi sciotta, ma non è possibile, non faccio in tempo di arrivare, che sono già morto. E mi si è bloccato a caso. Mi si è allargato, vabbè, comunque, ma Piper è troppo forte, non lo so, Piper è troppo forte. Piper, guarda, 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 guarda